Grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Possono arrestare me ma non possono arrestare la voglia di cambiamento di 60 milioni di italiani, quindi indaghino chi vogliono, vengano a prendermi, sono pronto, li aspetto con una grappa al mirtillo da Arrendena. Grazie mille, grazie mille. Dieci giorni fa è crollato un ponte sotto il quale sono morte 43 persone e non c'è un indagato e indagano un ministro che difende i confini di questo paese e difende la sicurezza di questo paese. E' una vergogna, ma siccome non abbiamo niente da nascondere siamo qua e alzi la mano se qualcuno ha voglia di farsi indagare insieme a me. Mandiamo alla procura di Agrigento queste immagini, c'è un popolo che è stufo di essere servo, bloccare l'immigrazione clandestina non è un diritto di un ministro ma è dovere di un ministro. Perché abbiamo fatto anche troppo, abbiamo accolto anche troppo, abbiamo speso anche troppo. E questo lo dico a tutte le telecamere che sono qua con tutto il rispetto per il lavoro dei colleghi giornalisti, ma lo dico soprattutto al popolo della rete, perché se gli italiani si dovessero informare aspettando qualche giornale e qualche telegiornale, campa al cavallo che l'erba cresce. E' fortuna che esiste la rete libera dove non possono imbavagliare nessuno, è fortuna che esistete voi. Mi piacerebbe vedere quanta gente sotto questo tendone, sotto una pioggia dell'accidente in questa serata di fine agosto con Napoli-Milan in concomitanza ci sarebbe se ci fossero Renzi o la Boldrini sotto questo tendone. E devo dire che gli immigrati a bordo della nave 18 sbarcheranno nelle prossime ore e poi vi racconto dove andranno, ma ho ritenuto di farli sbarcare anche perché poveretti hanno ricevuto in pochi giorni la visita della Boldrini, di Martina, di tutta quella gente lì. E ne hanno vissute abbastanza per non avere un supplemento di sofferenza. Come l'abbiamo chiusa? Riflessione numero uno. L'Europa, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una schifezza che non esiste e non merita i nostri soldi, perché se ne sono fregati dal primo all'ultimo. Se ne sono fregati dal primo all'ultimo. E io chiedo il vostro mandato di ridiscutere i miliardi che l'Italia manda ogni anno a Bruxelles, perché penso che sia giunto il momento di tagliare i finanziamenti a un ente inutile che quando c'è bisogno si volta dall'altra parte. E sapete dove andranno alcuni degli immigrati che faremo sbarcare nelle prossime ore? Alcuni degli immigrati, ed è un risultato miracoloso che non si era mai visto in vent'anni, vanno in Albania. E in questo caso il governo albanese si è dimostrato migliore del governo francese. E io dico grazie agli albanesi e dico vergogna ai francesi e a tutti quelli che se ne sono fregati. Chiacchiere tante, fatti pochi. La restante parte di immigrati andrà in uno o due altri paesi, ma la maggioranza, e lo dico con orgoglio, perché ci ho lavorato personalmente per ore e ore e ore, fra insulti, minacce, inchieste, di tutti i colori. Mentre gli altri insultavano, noi stavamo lavorando perché questo è un governo che vuole risolvere i problemi, io ringrazio perché siamo riusciti finalmente ad aprire le porte anche della Chiesa, perché tutti gli altri immigrati saranno ospitati a cura dei vescovi italiani e della Chiesa italiana che aprirà le porte, il cuore e il portafoglio. E quindi ringrazio. E quindi ringrazio. Perché il problema non l'abbiamo risolto grazie all'Europa o grazie ai soliti chiacchieroni, l'abbiamo risolto grazie a un paese che ancora non è in Europa e grazie alla collaborazione della Chiesa italiana, e questo a costo zero, dalle parole ai fatti, ne abbiamo accolti 700.000, ne abbiamo mantenuti 700.000, basta, basta. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e dovevamo, basta. Per quello che mi riguarda, dalla prossima nave può fare dietro fronte e tornare da dove è arrivata. Perché penso che il limite sia stato raggiunto. E se vogliono indagarmi anche per questo, mi indaghino anche per questo. Non ho problemi. Ci sono a questi fenomeni di sinistra, assenti ai funerali di Genova, i presenti sulla nave degli immigrati, io ricordo sotto voce che ci sono più di 5 milioni di italiani che vivono in condizione di povertà assoluta, che non si sono fatti neanche un giorno di vacanza, che hanno il problema di comprare lo zainetto ai loro bimbi fra 15 giorni quando riaprono le scuole, ci sono un milione di bambini in Italia, nella nostra Italia, figli di italiani, nipoti di italiani, che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, hanno trovato un governo e un ministro che pensa prima agli italiani e poi al resto del mondo, che pensa prima ai disabili italiani, ai genitori separati, ai disoccupati, ai precari e poi a chi sbarca domani mattina. Questo è il ragionamento. E che cosa porti a casa? Che ti indagano per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. Arresto illegale. Io lo aspetto pacificamente e col sorriso questo procuratore di Agrigento. Lo aspetto a Pinzolo. Perché voglio spiegargli le mie ragioni. Le mie ragioni e le vostre ragioni. E aspetto un procuratore che invece di indagare un ministro indaghi i trafficanti di esseri umani e chi favoreggia l'immigrazione clandestina. perché io ricordo a questo procuratore che spero mi stia guardando che gli scafisti con le migliaia di dollari che portano a casa dagli immigrati comprano armi e droga. Armi e droga. Che poi magari viene spacciata in Piazza Dante a Trento o fuori dalle scuole dei nostri figli. E io sono stufo di finanziare gli spacciatori di morte e di armi. Questo significa bloccare l'immigrazione clandestina. E permettetemi di ringraziare un governo che alla faccia di quello che scrivono i giornali è compatto come non mai. Ringrazio il Presidente Conte e il mio collega Di Maio perché stiamo lavorando bene e tanto. Perché stiamo lavorando bene e tanto. E questo muro umano di gente che c'è a Pinzolo è dedicato anche a loro. Perché abbiamo fatto più noi in due mesi che la sinistra in sei anni. Alla faccia della Boschi di Renzi della Boldrini. E tutti questi chiacchieroni con Rolex al polso. Questo. Scusate se sono un po' carico però questa era la mia settimana di vacanza con mia figlia che vede il papà più spesso in televisione che a casa e passare ore e ore al telefono per risolvere un problema per me è un piacere è un dovere ma essere indagato per difendere i diritti degli italiani è una vergogna. E la riforma della giustizia è uno dei primi temi che dovremmo affrontare in questo paese. Quattro milioni di processi arretrati hanno e indagano Salvini che difende i confini ma fate più in sfretta a smaltire questi processi. Non puoi metterci sei, sette, otto anni. Non puoi trattenere i divorziati per due o tre anni in attesa di giustizia. Non puoi trattenere migliaia di imprenditori per anni in attesa di giustizia. e io faccio affidamento sulle migliaia di giudici e magistrati per bene che ci sono in questo paese che si impegnano che lottano contro la mafia la camorra e l'andrangheta buttate fuori le correnti dai tribunali e dalla magistratura buttate fuori la politica dalle aule di giustizia che la giustizia sia uguale per tutti e se qualcuno vuole fare politica per il PD si candidi con il PD e non faccia al magistrato non faccia al procuratore si candidi e faccia al politico questo è perché ce ne sono tanti di magistrati che hanno dato la vita per difendere un'idea e io ricordo la commozione di quando ho incontrato quelli che per me sono degli eroi che ricordano la figura di un eroe del giudice ragazzino del giudice livatino che è stato ucciso dalla mafia perché indagava senza parlare era un magistrato che indagava e mandava in galera i mafiosi senza andare in televisione a finire sui giornali questa è la giustizia che mi piace e questa giustizia io difenderò finché campo la giustizia che non fa politica ma che fa giustizia di questo c'è bisogno